Tirare il pallone a Close alle sue spalle, in mezzo all'aria, rivediamo lo spunto di Felipe Anderson, resiste al secondo ripallo, poi Mauri intelligentemente gira alle sue spalle, dove arriva Close e la mette in rete, Close al nono gol, attenzione Verona! Ma qui francamente la posizione da rivedere sembra in linea, forse leggermente al di là con una spalla, qui Sao trova la cadiglia sinistra di Maurizio, la palla si impregna e va alle spalle di Marchetti, 1-1 Cagliari, grande coordinazione nel gesto tecnico di Sao, In precedenza però Crossettini, il suo intervento, ciocchietta, risulta al dubbio del direttore di gara Chi ci va? Sul dischetto, quindicesimo minuto, questo è il suo score, 1-1 Contro Berkic, il doppio Lazio, 2-1, faccia un quarto d'ora, provato a Cagliari, la bomba di parolo, sulla quale Berkic, probabilmente in ritardo coperto un po' anche dalla barriera del suo compagno, ma in effetti c'è anche una bella traiettoria a effetto del pallone che inganna il portiere Grazie a tutti